In il marcador si potrà vedere a continuazione un resumen con le giocazioni più destacate della prima parte. Di specchiare il bel clima sereno. Tutti si stanno godendo quella che si preannuncia come una grande serata di festa e di sport. E noi non vediamo l'ora che i contendenti ci regalino le prime occasioni importanti. Lo Spotify Camp Nou sfoggia ancora una volta il vestito delle grandi occasioni. I colori blaugrana salutano l'ingresso in carco dei giocatori. La partita è già cominciata. In cornata! Bella azione. Peccato non siano riusciti a concretizzare. Non puoi concedere tutto quello spazio sulla fascia. I difensori avrebbero dovuto temporeggiare e chiudere meglio lo spazio. Che legge Savolano! E la palla è in gioco! Non potevano desiderare un inizio di partita migliore di questo. Un gol nei primi minuti segnato dal giocatore simbolo. Ti dà la carica per il resto dell'incontro. Adesso per gli avversari è tutto in salita. Un abbaglio del genere a questi livelli viene sempre punito. Samorano ha fatto bene a crederci. Non tutti si sarebbero aspettati un errore in una zona così arretrata. Davvero una grande partenza. Un ottimo inizio. Sulla fascia. È libero. Vede lo scatto e cerca la profondità. C'è spazio! Occhio! Camavinga. Foden. Ottima giocata sulla sinistra. Dovranno sfruttarla meglio. Prova a darla profonda nello spazio. È libero di creare pericolo. Ottimo intervento! Gli avversari possono tirare un sospiro di sollievo visto che hanno buttato al vento un contropiede favorevolissimo. Palla in avanti verso il compagno. Errore qui. Pallone sprecato. Ecco Savorano. Fa valere il suo... Azione fallosa. Nessun dubbio. Corona. Masraoui. Savorano. Supera il dire. Savorano. Infizia al portiere. Ed è la marcatura numero 10 per lui. Era difficile fare meglio. Un tiro perfetto. Ha impattato il pallone alla grande ed è riuscito a metterlo dove il portiere non sarebbe mai potuto arrivare. due gol di vantaggio e partita in discesa. I rapporti di forza sono chiari al momento. Sicuramente cercheranno di approfittare per aumentare il loro bottino. cerca aiuto nella zona laterale. La palla entra in aria. Prova a salire in aria. Reazione di puro istinto del portiere. Direi che il portiere è stato impeccabile. Difficile fare meglio di così. La gioca a sinistra. Se ne va. Pallone in mezzo. Va di testa. Completamente fuori misura. Un contropiede molto ben gestito. Ma la conclusione è stata deludente. La mette sulla sinistra. Foden. Sale da dietro e si fa trovare libero. Palla filtrante per Griezmann. Griezmann. Ha visto partire il pallone. Si è proposto anche bene. Ma poi non è riuscito a fare niente. Interviene tempestivamente. La gioca sulla destra. Cercano l'azione veloce. Kamavinga. Di Marco. Masrawi. Oggi autore di un assist. Effetto al cross. E va a colpire di testa. È riuscito a impattare il pallone. Ma non è andato a segno. Ci hanno provato sul serio. Portando molti uomini all'interno dell'area di vigore. Portando molti uomini. Portando molti uomini. Portando molti uomini. Portando molti uomini. Ecco un'occasione di contropiede. Portando molti uomini. Corona. Sceglie di andare per vie verticali. Portando molti uomini. Corona. Palla tra le linee. Palla fiettante per Savolano. Savolano. E hanno segnato ancora. Un altro gol per lui. Prestazione sontuosa. E per non dimenticarla mai. Si porta anche il pallone a casa. Hanno forzato gli avversari all'errore. E li hanno trafitti quando non erano preparati. Grande rapidità di esecuzione. E sono tre. E ovviamente si porterà a casa il pallone con le firme di tutti i giocatori. E' incredibile come sia sempre. Nel posto giusto, al momento giusto. Si riparte dal 3 a 0. Tocco preciso. Foden. Bella parata. Con qui sta palla in zona pericolo. Savolano. E il pallone finisce in rete. Gli avversari possono solo prendergli il numero di tag a questo punto. Non si può commettere una papera del genere in quella zona di campo. Samorano ha approfittato di uno svarione difensivo. Ma è anche stato bravo a impensierire gli avversari con la sua presenza. Quarto gol. Ha fatto poker. Risultato ormai assolutamente impossibile da ribaltare. Beh, l'inerzia della partita è cambiata in loro favore. Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol, visto come stanno giocando. Intervento duro ma corretto. Avrà 3 minuti di desconto. Camavinga. Intercetta il pallone dopo una lettura magistrale. Si è fatto trovare pronto, reattivo. Che botta. Ha angolato troppo sulla sinistra. Il tiro non è stato un granché, ma ha avuto il coraggio di trovarci. Palla fuori di poco e finisce così il primo tempo. Hanno fallito quest'ultima opportunità, altrimenti parleremo di tutt'altro risultato. Ma la storia non si fa con i sé, come si suol dire. Sono stati praticamente perfetti. Efficaci davanti e decisi in difesa. L'allenatore può solo fare i complimenti ai suoi. Ma in effetti si vede, ha un sorriso stampato sul volto. Ed ha ogni ragione per essere al settimo cielo. Il Barcellona ha messo in piedi una prova fin qui superlativa. L'allenatore dovrà cercare di mantenere alta la concentrazione dei suoi. Nonostante la vittoria sia già in tasca. Partiti. Siamo già nella seconda frazione di gioco. Ci prova con un pallone profondo. Lo sposta di peso e gliela porta via. Allarga il gioco a destra. Provano a partire in velocità. Possibilità di tiro. E qui hanno rischiato il grosso, ma la difesa è riuscita a rimediare. Approfittato di un momento di incertezza degli avvertiti. Crisman! La mette sul piano fisico e riconquista la palla. Ecco Samorano. Il Barcellona al calcio di punizione. Forse da qui è un po' lontano. Ma abbiamo visto gol da distanze anche maggiori. L'arbitro indica chiaramente la rimessa. Samorano. Pallone interessante in verticale. Ha provato l'azione individuale, senza successo però. Credo che l'appollamento... Fallonetto. Non c'è ombra di dubbio. Griezmann. Opportunità di ripartire. Masraoui. Griezmann. Griezmann! L'assistenza a questo partito asciende a 96.628 spettatori. Riceve il passaggio. Sapeva già tutto e anticipa l'avversario. Il passaggio forse era un po' telefonato, ma resta l'ottimo posizionamento difensivo. E passa! Palla filtrata per... Non è troppo lontano. Cerca il tiro! Palla veramente troppo alta. Si è preso lui la responsabilità di concludere. Ma ha tenuto il baricentro alto e il risultato non è stato dei migliori. Allunga il piede verso il pallone. A spazio Griezmann! E il portiere dice di no. Bella parata. Un errore che a questi livelli di solito non si fa. Era lì, a due passi dal bersaglio. Cercherà di metterla in mezzo. Solta e colpisce di testa! Ripartono all'attacco direttamente dalla propria aria. Foden! Ottimo intervento del portiere. Ci ha provato, nonostante la distanza fosse proibitiva. La smortia sul suo volto, guarda Fabio. Dice tutto sull'esecuzione. E conquistano il pallone e il pallino del gioco. Qui può partire il contropiede. Ci prova con un pallone profondo. Palla filtrata per Griezmann. Supera il diretto avversario. Intervento difensivo molto tempestivo. Ha interrotto l'azione d'attacco con una grande determinazione. Troppi giocatori in area. Non c'era abbastanza spazio per tirare. Vede lo scatto e cerca la profondità. Un'altra azione in copertura. Foden. Palla filtrata per Samorano. C'è l'opportunità per il contropiede. Allarga il gioco. C'è un compagno largo pronto a ricevere. Grande movimento nello spazio. Minaccia sventata. Avevano imbastito una trama di gioco interessante. Peccato sia mancata la qualità su quell'ultimo passaggio. Prova a darla profonda nello spazio. Traversone in area. C'era stato un ottimo movimento in area di rigore. Ma non è riuscito a premiarlo. Recoverano il possesso del pallone. Camavinga. Sceglie di andare per via verticali. I due qui non si sono capiti e l'azione così è sfumata. Ma ma vinga. Mette il tubo. Di Marco. Palla filtrata per Griezmann. Ecco Samorano. Ci prova con un pallone profondo. Circa attivo. Un minuto di descontro. Ed è arrivato il segnale di chiusura della gara da parte dell'arbitro. Una grande prestazione offensiva. Hanno messo in enorme difficoltà.